L'invasione dell'Afghanistan è l'inizio di tutto, è l'inizio di una serie di tumulti, di guerre e di tensioni geopolitiche mondiali. Dieci anni dopo l'invasione l'Unione Sovietica si rende conto di aver fatto un errore e torna indietro, ma da allora comincia una stagione di terrorismo di cui oggi stiamo ancora pagando le conseguenze. L'Afghanistan è terra in stagione stabile, gli italiani lo sanno bene perché sono stati impegnati a lungo con le forze di pace, da lì partono ancora oggi molti dei movimenti jihadisti, parte molta droga che alimenta il mercato criminale. Portare la democrazia o in questo caso la tirannide di un colore politico ben preciso non è servito a nulla, non è servito a risolvere i problemi e si dimostra ancora una volta un tentativo sbagliato per gestire le tensioni internazionali.